Ecco come comunica la nostra amministrazione attraverso i media e attraverso i giornali. Ieri, sabato 26 maggio 2012, sul giornale di Sicilia e sulla Gazzetta del Sud si riparla della discarica nell'ex cava dell'inganno. Vado sul mio blog personale, l'altra informazione e clicco sulla finestrella discarica carbone. Successivamente faccio la ricerca e immediatamente mi appare discarica carbone. Clicco su ordina per data, aspetto un attimo e do immediatamente uno dei post inseriti nel mio blog. Porta la data dell'8 marzo 2012 e il titolo Rewind sulla discarica di contrata carbone che forse è meglio oggi chiamare inganno. Questo è uno dei primi post che ho scritto, degli ultimi post che ho scritto e si riferisce anche a quello del 2 ottobre 2010 dove si diceva che la costruenda discarica di contrata carbone, già autorizzata dalla regione siciliana a soggetti privati, suscita indignazione nella minoranza. Passiamo al post del 7 marzo 2012, la discarica di inganno sarà un inganno e i consiglieri che faranno o hanno fatto? Continuiamo a far scorrere le immagini dei post e arriviamo all'11 febbraio 2012. Quando finiamo questa Ciantonia, scrive un lettore, evidentemente la Ciantonia dovrebbe essere dall'immagine, dalla foto, quella di contrata carbone. 8 gennaio 2012, il popolo è sovrano e la discarica di carbone sul torrente inganno si farà? 17 dicembre 2010, anche lo scrittore santagatese Vincenzo Consolo parteciperà al convegno, il piano regolatore. 14 dicembre 2010, conferenza stampa di presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso la discarica di contrata carbone. 12 novembre 2010, ad Acquedolce e nella nostra cittadina continua la raccolta delle firme contro la discarica sul torrente inganno. I comunicati stampa dei due comitati costituitisi nei due centri. 3 novembre 2010, il Comitato Acquedolcese per una gestione oculata dei rifiuti soliti urbani organizza una maratona oratoria e raccolta firme. La maratona si ripeterà anche a Sant'Agata? È un interrogativo che mi sono posto. Passiamo al 20 ottobre 2010, ad Acquedolce il Sindaco Gallo incontrerà domenica la cittadinanza. La portavoce del Sindaco ha annunciato che è in corso un confronto positivo con il Sindaco Bruno Mancuso e la probabile costituzione di una commissione per fare riaprire alla Regione Siciliana la valutazione di impatto ambientale. 28 ottobre 2010, i tre comitati Acquedolci Sant'Agata San Fratello, uniti contro la discarica di contrata carbone, concertano una campagna pacifica, le misure e le azioni da intraprendere a tutti i livelli. 25 ottobre 2010, alcuni commenti dei lettori del blog sulla discarica di contrata carbone, sui comitati spontanei e sui giovani. Ancora una foto della discarica di carbone. 24 ottobre 2010, Francesco Calan e l'Avvocato Pruiti, Sindaco di Castellumberto, lanciano dagli studi e l'emittente onda TV accusa il vetriolo. Anche la pesti Giacomo non è stata tenere nei confronti del Presidente Lombardo in merito al piano rifiuti siciliano. Acquedolci, discarica di contrata carbone, decisione della riunione del Comitato Acquedolcese, preoccupazione per lo stato di torrenti dopo le ultime piogge e inondazioni. Acquedolci, 18 ottobre 2010, le raccolte firme contro la discarica carbone prosegue. Il Comitato si riunirà domani per studiare la documentazione e intraprendere ulteriori azioni. 15 ottobre 2010, rapporto sul sopralluogo al torrente inganno dall'Associazione Culturale Mediterraneo di Acquedolci. 14 ottobre 2010, i rappresentanti dei Comitati Cittadini e di discarica di Sant'Agata Militella Acquedolce e San Fratello effettuano un sopralluogo al torrente inganno e a carbone. Le interviste a Farid Adrini, Presidente dell'Associazione Culturale Mediterranea e a Salvatore Mangione. 12 ottobre 2010, l'Associazione Culturale Mediterranea promuove un sopralluogo al torrente inganno per visitare i luoghi dove dovrà sorgere la discarica carbone. Anche ad Acquedolci inizia la raccolta firme contro la mega discarica di contrata carbone, il comunicato stampa dall'Associazione Culturale Mediterranea e del circolo Arci Acquedolci. Andiamo ai posti successivi. C'è quelli antecedenti in questo caso. 9 ottobre 2010, oggi il Centro Commerciale Acorasi può firmare la petizione contro la discarica di contrata carbone. 7 ottobre 2010, non firmate quella petizione, pericolo. 5 ottobre 2010, la discarica di contrata carbone, una raccolta firme per dire no. Sulla discarica di contrata carbone, dopo le interviste ai consiglieri Reitano e Maniaci, la risposta dal consigliere Domenico Parvuzza. 2 ottobre 2010, raccolta firme contro la discarica di contrata carbone, l'intervista al consigliere e Maniaci. 1 ottobre 2010, il Consiglio Comunale e la discarica di contrata carbone, respinta la mozione di minoranza. Video intervista al consigliere Reitano. 30 settembre 2010, che figuraccia cervelli all'ammasso. 27 settembre 2010, emanato dalla Regione il piano settoriale delle località a vocazione turistica nella provincia di Messina e c'è anche Sant'Agata Militello. Leggere la lettera che dovrebbe essere, eccetera, eccetera. 25 settembre 2010, commentiamo un commento, quello apparso sul post, una gatta da pelare. Inizia la raccolta porta a porta. 20 settembre 2010, la discarica di contrata carbone, una gatta da pelare o una miscela esplosiva? 17 settembre 2010, una mozione contro la discarica di contrata carbone, presentata da tutti e cinque i consiglieri di minoranza. Chiedono al sindaco di rivedere la posizione assunta. I commenti dai lettori, che sono tantissimi. 15 settembre 2010, discariche da fini. Il lettore Antonio M. chiede all'amministrazione risposte valide e aggiunge, amo il paese in cui ho vissuto fino a 25 anni e lo vorrei libero dal servilismo e clientelismo, politico, burocratico, insito in molti dei miei ex concittadini. 14 settembre 2010, per la discarica di contrata carbone, l'amministrazione e il sindaco di Acquedolci non sono stati interpellati, anche se per accedere alla discarica occorre passare dal loro comune. 9 settembre 2010, sabato sera al Teatro Sacro Cuore, i cittadini contro la discarica di contrata carbone, parteciperanno ad un dibattito pubblico e aperto a tutti. 21 agosto 2010, volete togliere di mezzo e definitivamente l'attuale amministrazione, gli attuali consiglieri di maggioranza? Non firmate, fate costruire la discarica e poi giudicate con serenità, tanto al peggio non c'è mai fine. Aperto anche su Facebook un gruppo no discarica contrata carbone che già conta 73 membri iscritti. 18 agosto 2010, la discarica di contrata carbone autorizzata dalla regione, suscita i commenti dei cittadini e provoca il rilascio di un comunicato stampa diramato dai consiglieri di minoranza. 27 giugno 2010, ma vai a quel paese! 26 giugno 2010, il sindaco Mancuso e la monnezza. Nei commenti anche la mia risposta al rilievo di Scurria. Un brano tratto da Enrico De Aglio nel suo mensile diario. 23 giugno 2010, questo blog fa disinformazione, lo affermano l'assessore Scurria e il consigliere Amata. Voi che ne dite? Lo chiudiamo o lo facciamo chiudere? La verità fa sempre male, tanto vale non dirla. Questo posto è alquanto interessante, lo sto rileggendo. 22 giugno 2010, Bello Lampo e le analisi confermano. Il percolato ha inquinato i pozzi. Dal giornale di Sicilia, carbone di Sant'Agata Militello come Bello Lampo. 21 giugno 2010, i cittadini santacatesi cominciano a mobilitarsi contro la costruzione o realizzazione di discariche nel territorio del nostro comune. I commenti dei lettori? Una bella vignetta. Il sindaco sente da lontano la voce possente dalla folla che si muove con il ritmo di un torrente inganno in piena. E' il posto del 21 giugno 2010. Passiamo al 19 giugno 2010. Corretta disinformazione, dignità, discarica di contrata carbone e reazione della società civile. I vostri commenti. Il sindaco in questa vignetta dice Non si intravedono motivi ostativi dal punto di vista politico-sociale alla realizzazione della discarica qualora non vi siano impedimenti tecnici e ambientali. E uno dei suoi soldati aggiunge Questa discarica sa da fare. Nell'altra vignetta che sto rileggendo Il sindaco sente da lontano la voce possente dalla folla che si muove con il ritmo di un torrente. Inganno in piena. 10 giugno 2010 Una discarica di rifiuti solidi incontrata carbone con impianto di pretrattamento. Il sindaco risponde all'interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza. I commenti dei lettori. Anche questo posto è alquanto interessante. Primo giugno 2010 La discarica a Sant'Agata di Militello Una telenovela infinita Gli ultimi commenti dei lettori pervenuti in questo mese di maggio 31 maggio 2010 Commenti docet I commenti dei lettori dovrebbero servire a qualcosa o no? La seconda parte della telenovela Sono convinto che con questo blog sto scrivendo la storia futura di Sant'Agata Militello 28 maggio 2010 I Sant'Agatesi si meritano questo e di peggio Hanno tradito i loro figli Agiaiai, non sono riuscito a leggere completamente Torno indietro Ecco, torniamo indietro I Sant'Agatesi si meritano questo e di peggio Hanno tradito i loro figli migliori e li hanno espulsi E il commento di un lettore E i vostri? Poste del 28 maggio E si riferisce mi pare pure a qualche nostro conterraneo Compreso lo scrittore Vincenzo Consolo Infatti ecco qua la foto I cinquantenni al potere hanno mandato in esilio i migliori talenti della nuova generazione Ci sono fior di cervelli sparsi per il mondo che in tasca conservano la carta di identità rilasciata da questo comune Ma per loro non c'è spazio E qua ritorniamo al discorso dal nemo profeta in patria sua E ancora continuiamo La probabile apertura della discarica di contrata carbone è spiegata ai giovani col contributo dei fumetti sui promessi sposi Bellissimi questi fumetti Un vecchio cameriere del signor Otto in segreto informa padre Cristoforo che si sta macchinando qualcosa di irregolare e di perverso Aiuto la discarica no Don Rodrigo manda due bravi ad ordinare al curato Don Abbondio che quel matrimonio non si deve cerebrale Questa discarica sa da fare Altro fumetto Anzi altra vignetta Il vicario sente la voce possente della folla che si muove con il ritmo di un torrente in piena I servitori sbarrano porte e finestre Un malefico fetore proveniente dalla discarica in made Non riesco a leggere bene Il frate è introdotto nel palazzo e addirittura messo alla sala da pranzo Dove Don Rodrigo banchetta con alcuni ospiti Tra i quali spiccano il cugino Attilio La carestia temuta durante i mesi autunnali e invernali Si presenta con il suo volto devastatore Non ci sono farina e pane Dappertutto botteghe chiuse e uomini vestiti di cenci smagriti A questo punto interviene la polizia Il capitano di giustizia viene raggiunto da un sasso alla fonte Renzo capisce che da quel momento Scorso velocemente non sono riuscito a leggere Alla fine di peste muoiono i due terzi della popolazione Più esposti alla morte sono i bambini, i vecchi e le donne A sciogliele il nodo giunge al castello palazzotto di Don Rodrigo Il marchese che ne è l'erede Porterò nuova luce 27 maggio 2010 Il sondaggio, considerazione e commenti della discarica di contrata carbone Ne riparleremo ancora nei prossimi post 25 maggio 2010 Una discarica in contrata carbone I consiglieri di minoranza, sempre il solito quintetto Chiede l'Umea al sindaco Chiuso domenica il sondaggio sull'amministrazione in carica E per chiudere in bellezza, anzi in bruttezza Una foto da satellite della discarica di contrata carbone Ovvero dell'inganno E una zoomata per meglio guardare, considerare e riflettere Grazie a tutti Grazie a tutti